Ciao a tutti, siamo sulla Ghidantrev di fianco al Monte Bianco come potete vedere dietro di me non era la nostra prima opzione, abbiamo provato a fare qualcos'altro ma dato la neve non bellissima abbiamo optato per la Ghidantrev Voto alla gita, darei un bel 9 per il panorama, speriamo anche la neve non sia niente male dovrebbe essere trasformata in discesa quindi perfetto Ciao a tutti e buona salita in Drajarna